Ok, adesso andiamo a fare il programma 4, ancora più intenso, ancora più impegnativo e adesso andremo a lavorare in piedi, ma anche per terra con i glutei proprio in ponte sia un movimento che a me piace tantissimo prendiamo i nostri elastici e li incrociamo, ok, così in piedi andiamo a lavorare anche le spalle, ok? picchi movimenti di spalle, continui e non è necessario farli troppo pesanti perché non mi alzare le spalle così, ok? spalle basse, petto in avanti, ok? la sentiamo, bravi, 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 continui siamo qui e poi quando è cambiato, scendiamo giù adesso deve fare bello, bello, bello diciamo molto forte e tieni i piedi divaricate e su un ponte, e squeeze 1, 2, continui taloni bassi e tu continui a lavorare da sdraiata puoi prendere anche un asciugamano, ok? continui, spingo su spingo su, dai ragazzi, bravi siamo qua affinché cambia la velocità affinché cambia la velocità ok, cambiato andiamo su, su, su prendiamo i nostri elastici lavorate in intensità, ok? braccia indietro la testa gomme di chiusa andiamo a lavorare sui nostri vele i nostri tricipiti il nostro muscolo dell'applauso ok? scendo giù e spingo ok, questo è un bel allenamento 10 minuti e dobbiamo lavorare in modo lineare completo e movimento dai finché la barca va noi vibriamo ok, cambiato giù, 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 giù mi raccomando ragazzi piedi giù sulla pedana alziamo i fianchi ma questa volta alzo le gambe alla volta ok, 10 9 8 spingi 7 6 5 4 3 2 cambiamo la gamba vai 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 e 1 2 3 4 lo senti 5 6 7 8 9 e cambiato dai su prendiamo i nostri elastici uno dice wow Jill io non pensavo che potevo allenarmi così tanto con una pedana vibrante uff dammi tempo ti faccio vedere tutto allora cociamo la presa ok gomiti stretti indietro e stendo 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 proprio i nostri tricipiti continui continui adesso sul prossimo scatto rimaniamo proprio in piedi vi farò un bel scatto a 15 stiamo parlando di alta intensità ok è partito dai giù, 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 giù resisti di cazzo resisti resisti sali lentamente tieni 4 3 2 scendi giù bravi 4 3 2 sali su cominciai a sentire il lavoro siamo a livello 15 e abbiamo ancora 8 minuti scendo giù fantastico 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 ancora su vai 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 come sta vibrando per noi scendo giù ok abbiamo ritornato sulla nostra livello 7 ritorniamo sulle braccia ok e vado 1 push 6 questo non è abbastanza diciamo teso perché come elastico lo accorsi ok push 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 spingo spingo abbiniamo le braccia le gambe insieme allenamento tolto body 10 minuti tutti quanti vogliono avere tolto body in 10 minuti continui ci mancano 7 minuti dai passato velocità ritorniamo giù a terra ponte tutti in ponte tutti in ponte spingi giù sui talloni e schiacci 8 però adesso chiudiamo e anche la testa così facciamo abdominali e glutei insieme oh bello ci piace continui spingo 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 finché la pedale cambia velocità continuo 8 7 6 5 ancora 4 3 è cambiato andiamo su per la braccia ricordate che voi avete l'imbarazzo della scelta in pratica se voi volete ok alziamo il laterale voi potete anche semplicemente stare sulle pedane e lui lavora per voi ok è necessario di muovere con la jib se io sto stessi fermo non sarebbe divertente invece ti do la possibilità di allenarvi di tonificarvi ok il prossimo scatto sarà un po' più impegnativo ecco è partito spalle glutei insieme su scendo su e scendo addominali tesi continui su push e giù su e giù continui dai 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 state facendo un lavoro eclatante eccellente perfetto continui ancora ci mettono sei minuti si sente il lavoro bello scatto bello scatto bello scatto bello forte bello scatto ci piacciono le cose forti ok torniamo sulla nostra interna coscia e andiamo sulle punte ok equilibrio e vedrai che le gambe si ballano tenete la posizione abdominali tesi ok questo è un bel allenamento me lo sento tutto sto sudando però vuol dire vedi nonostante che sono pochi minuti ti fa lavorare ti fa lavorare pure tanto continui si 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 5 minuti ci mancano siamo a metà strada ripartito adesso scendiamo taloni bassi ok bracci su su e giù salvo anche poco poco con la coscia così lo scende tanto e sull'interna coscia così avremo interna esterna proprio tutto la nostra gambe in solo 10 minuti di lavoro risultati garantiti portiamola su su e scende giù e su e scende giù continui che bello allenamento mi piace proprio tanto 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 ancora ok scendiamo giù e teniamo proprio l'equilibrio su una coscia solo ok guardi di fronte a te guardi di fronte a te ancora 7 6 5 4 usi gli elastici anche per l'equilibrio cambiamo gamba guardi di fronte a te ok tengo la posizione eccoci qua addominali tesi se fissi un punto solo è più facile ok però questo è eccellente anche per l'equilibrio e proprio cessione ancora tieni la posizione è ripartito il nostro scatto allora pugno siamo di varie con le gambe e pugno con le mani pugno con le mani alziamo anche un po' il battito cardiaco perché no diagonale diagonale vai 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 gambe braccia tutto insieme mantieni 4 minuti ci mancano 4 minuti ci mancano ok continui finché non si cambia la velocità di nostra vibra io amo vibra power che veramente dà risultati ok quasi quasi siamo rilassati adesso perché sono solo 7 adesso unisco le mani dietro su e giù insieme unisco i manubri e andiamo a lavorare sulle nostre precipiti continui 3 minuti ci mancano io vorrei aggiungere anche uno bello braccio sotto ok perché questa pedana vibrante è eccellente anche per le braccia e a 15 quando cambia cambia tutti quanti giù ginocchio metti le mani sopra e lasciali lasciali vibrare lo senti shakerare vibrare tonificare snellire rassodare migliorare il microcircolo se senti il fornico io ripeto è normale fatevi anche le foto le foto prima e dopo le foto prima e dopo per vedere quanti risultati ce l'avete in pochi giorni mandatcelci lì mandameli a info choccelacolsport.com così io posso seguire anch'io le vostre diciamo successi successi ok ci siamo e salgo 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 piccolini up piccolini up ancora 8 2 minuti 7 6 5 4 3 2 finché cambia finché cambia finché torna 15 ci siamo ancora ok giù tutti quanti giù ok scatto spingi i suoi talloni porti i busti in avanti addominali tesi sali poco a poco e lasciati vibrare lasciati shakerare oh l'ho sentito appertutto addominali tesi addominali tesi lo sento anche sulle braccia bello scatto 2 minuti ci mancano solo 2 minuti solo 2 minuti poi prenderemo quando cambia di nuovo i nostri elastici siete pronti? siete pronti? siamo quasi cambia per tra poco cambiato su 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 andiamo su bicipidi prendo il manubrio accoccio la presa ok e su su e giù ricordate che le braccia sono importanti ragazzi le braccia sono importanti perché le braccia è la prima cosa che si vede quando metti la canottiera noi possiamo nascondere la pancia possiamo nascondere anche sotto i pantaloni ma le braccia si vedono e si vedono anche tutto qua sotto allora insistiamo anche con le braccia e poi siccome questi sono veramente belli allenamenti facciamolo ultime 30 secondi ultime 30 secondi scendi sali scendi sali dai 22 secondi e l'allenamento di oggi è fatto rimani su braccia oh fatti shakerare fatti shakerare bel allenamento intenso cip davanti indietro dai dai ottima 10 secondi ci siamo quasi lì quasi finito con programma 4 della nostra DVD con G-Cooper e con il nostro Vibra Power è finito eccellente un eccellente allenamento e vi rispetto alla prossima ciao 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 ciao